Musica Questi magnifici interpreti del film più brillante, divertente e esilarante che vi farà rivivere l'avventura di un gruppo di lestofanti che tentano inutilmente di non pagare le tasse Io voglio sentire la tua passione Su Panic Button, Operazione Fisco Il film delle situazioni improvvise Delle avventure galanti Dell'amore Dell'allegria Delle belle donne Attenzione per favore In macchina non tenete le mani addosso a lei Tenetele al volante No, Carlo mio caro, non siamo tanto intimi ancora Mangia, io non volevo dire altro che Beh, la cena l'offro io E il quadro è 40.000 lire Non lo so chi sa Ha detto che un uomo in bicicletta è venuto e si è preso tutto Un uomo in bicicletta? Cerchiamo Un uomo in bicicletta Un uomo in bicicletta